Con il sorteggio del calendario è iniziato il conto alla rovescia per il campionato cadetto, che coinvolgerà 22 squadre per un totale di 12 regioni italiane. Si inizierà sabato 27 agosto, con un anticipo venerdì 26. Tra le squadre venete, il Verona, retrocesso dalla massima serie, il Vicenza, ormai una conferma per la categoria, e il Cittadella, ne ho promosso. Proprio i Granata, dopo un anno di Purgatorio in Lega Pro, ripartono dal San Nicola di Bari, mentre Verona e Vicenza debuttano in casa rispettivamente con il Lattina e il Carpi. La prima squadra che il Cittadella affronterà tra le mura amiche del Tombolato sarà invece la Ternana. Per assistere al primo derby Veneto bisogna attendere la quindicesima giornata, fissata per il 19 novembre, quando si incontreranno Cittadella e Verona. Sempre in chiave derby Veneto, tre giornate dopo sarà la volta di Vicenza a Verona, mentre per assistere alla sfida Vicenza-Cittadella bisognerà attendere la penultima giornata del Girone di Andata. Il torneo si concluderà venerdì 19 maggio. Previsti sei turni infrasettimanali. Il primo già martedì 20 settembre, a seguire il 25 ottobre, il 28 febbraio, il 14 aprile, lunedì 17 aprile, giorno di Pasquetta e martedì 25 aprile. Novità di questa edizione del campionato è proprio il fatto che si giochi anche il lunedì dell'Angelo. Si scenderà in campo anche la vigilia di Natale, quando tra le altre è in programma proprio il derby Vicenza-Cittadella, mentre il Verona ospiterà in casa il Carpi. E si giocherà anche il 30 dicembre per l'ultima gara di andata, che vedrà impegnate il Cittadella in casa con l'Entella, il Verona con il Cesena sempre in casa e il Vicenza in trasferta con lo Spezia. Seguirà quindi la lunga pausa invernale, per poi tornare a giocare il 21 gennaio, per l'inizio del girone di ritorno.